L'arte immersa nel paesaggio unico di uno dei borghi più belli d'Abruzzo. Siamo a Pereto, al confine tra la Marsica ed il Lazio, incastonato tra i monti carziolani, affacciato su una splendida faggeta. E' qui che ha lasciato il suo cuore Paola Capata, una delle maggiori esperte in Italia di arte contemporanea, con gallerie tra Roma, Lisbona e fino a qualche tempo fa anche a New York. La nota gallerista romana da sette anni ormai ha scelto il borgo di Pereto come luogo naturale per accogliere importanti opere di arte contemporanea nell'ormai celebre straperetana. Per noi è molto importante che il borgo di Pereto, con le sue case medievali, il suo assetto storico, accolga il contemporaneo e in un qualche modo venga anche riscoperto magari da viaggiatori attenti che possono notare sia la bellezza di questo borgo, sia quello che l'Associazione Cultura Straperetana propone. Quest'anno sono state scelte artiste esclusivamente donne, ben 18. in 100 anni di storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Maria Laia, giovani talenti della scena contemporanea, in parte provenienti anche dall'Accademia dell'Aquila, tutte accolte con grande entusiasmo dalla comunità peretana. Il fatto che si pereta è veramente un bel borgo, chi viene e rimane, forse non riusciamo a valorizzarlo per quello che è. Invece, ecco, grazie alla straperetana, a questi due ragazzi, Delphoi e Paola, ecco, grazie a loro che veramente ci saranno visibilità, che è quello che, specialmente ai piccoli borghi come i nostri, è vita. E proseguono a pieno regime anche le viste guidate. Ieri una in particolare, con i contrapunti letterari e musicali di Marianna Dovidio e Antonio Massaro. È un po' un esperimento in cui cerchiamo di realizzare questo connubio, questo happening, tra due realtà molto lontane tra di loro. L'arte contemporanea che quasi si affaccia all'arte di oggi e ci racconta ciò che è, ci spiega i nostri giorni, perché gli artisti oggi hanno un'arte concentuale e chi invece ha già percorso l'arte nella forma letteraria e quindi li abbiamo voluti mettere insieme, raccontare insieme in questo viaggio nella musica, nella letteratura, nella poesia, nell'arte contemporanea a Pereto.